Come ti chiami? Benedetta Ponticelli Luca Bottale Alessandro Quarta Da dove vieni? Vengo da Livorno Dalla cucina, ma da Milano Io vengo da Roma E dove vivi? Vivo a Roma Vivo a Milano Io vivo a Roma Che cosa fai nella vita? Faccio la doppiatrice e vado in moto Sono un attore doppiatore No, beh, io non vado tanto in moto Io in questo periodo sono attore doppiatore Direttore di doppiaggio Li conosci loro? Sì, io Luca l'ho conosciuto tanti anni fa Quando ho cominciato a doppiare Perché ho cominciato a doppiare a Milano E erano le prime volte che andavo ad assistere negli studi Quindi ero molto timida sempre Seduta in un angolo E tutte le volte che entravano i doppiatori Io li guardavo speranzosa Per cercare di fare amicizia con qualcuno Parlare con qualcuno E una volta dopo che avevo iniziato a assistere Più o meno da settembre Prima delle vacanze di Natale Sono uscita dallo studio Sono passata davanti a Luca E ho fatto Ciao, è lui Ciao, buon Natale E di Alessandro mi ricordo Che invece l'avevo conosciuto a Roma Perché poi nel frattempo Mi sono spostata a lavorare a Roma E io mi ricordo che ero seduta Stavolta un po' meno timida Un po' più tranquilla e rilassata E lui stava facendo un teatrino C'erano tutti intorno che ridevano E io mi vergognavo Perché mi veniva da ridere Però non volevo far finta Di non ascoltare cosa stavano dicendo Io mi ricordo adesso Quando ho conosciuto Benedetta Perché me l'ha raccontato lei Praticamente sono arrivato Come una specie di babbo Natale A dire ciao Ti chiedo anche una scusa Mentre invece Alessandro Con Alessandro ci siamo conosciuti Prima riunione della nostra lista Però Alessandro lo conoscevo già Non di persona Io ho conosciuto Benedetta Durante un film Con Fabrizia Castagnoli Uno di quei momenti meravigliosi In cui si lavorava ancora con i colleghi Che ci poteva conoscere Stare insieme Invece Luca come dicevamo Conoscevo di nome Però ci siamo conosciuti Alla prima riunione Del gruppo Nova In che lista ti presenti? Lista Nova Nuovi orizzonti Per la valorizzazione Degli artisti La lista numero uno Uno Numero uno Perché ti presenti in questa lista? Siamo un gruppo di persone Che si sono scelte con cura Con molta cura È una lista che è nata Da una rete di persone Che hanno più o meno La stessa visione ed insieme Ma che vengono da ambienti E da esperienze molto diverse E questo secondo me È la grande ricchezza di questa lista Perché in questa maniera Possiamo essere più rappresentativi Dei soci e delle soci Iscritti a Nova Imaio Perché è una lista Che raggruppa al suo interno Artisti e artisti A 360 gradi Per cui ci sono attrici e attori Che lavorano nel cinema Nella televisione Nel doppiaggio Nel teatro Che coprono anche Nel doppiaggio Diciamo Tutte le fasce di età Giovani attrici Attori Che stanno cominciando adesso E anche molto bene Ad artisti e artisti Che fanno parte Proprio del nostro Patrimonio Culturale Che sia televisivo Cinematografico Teatrale Arriva nella vita Un momento in cui Devi essere più attivo Se vuoi Che i valori Che hai portato Che porti Che in cui credi Veramente Possano tramandarsi Conoscevo Molte colleghe Doppiatrici Per cui Ho profonda stima E questo Mi ha spinto Veramente A candidarmi Anch'io Perché Un gruppo Veramente Bello Eterogeneo Che può andare Lontano È la prima volta Che ti candidi Al nuovo Imaie? No Per me è la terza volta Mi sono candidata E sono stata anche eletta Nel 2013 E anche nel 2018 Quindi questa è la terza Sì È la mia Premissima volta Sì Per me È la prima volta Hai approvato Tutti i punti Della lista Ma qual è il punto Che più ti piace? A me piace di più Il punto numero 16 Che dice Di incentivare L'uso di un'app Apposta Per Inserire i personaggi Viati Soprattutto per quanto riguarda Il doppiaggio Ma ovviamente Si può estendere Anche alla parte Vittoriale Per chiedere Il rimborso dei provini Perché abbiamo visto Che molti soci Hanno avuto diverse difficoltà E quindi ci piacerebbe Rendere tutto Un po' più veloce E anche per velocizzare Le fatturazioni Da fare con I nuovi maie Perché questi sono Tre problemi grossi Che abbiamo riscontrato Negli anni Per cui i soci Ci hanno chiesto Spesso una mano E allora vorremmo provare A semplificare un po' Questi punti Io sono molto impegnato Nella formazione Quindi credo Molto nel numero 15 Cioè l'organizzazione Di corsi gratuiti Di doppiaggio Per doppiatrici Doppiatori Già professionisti Che vogliono perfezionarsi Per doppiatrici Doppiatori Da poco entrati Nell'ambito del doppiaggio Per attrici Attori Prevalentemente Cinematografici Che vogliono migliorare Del doppiare A me piace molto Il punto numero 14 Da dietro Molta esperienza Rispetto agli anni passati Alla gestione Dell'istituto Molti di noi Erano già delegati Negli anni passati E questa secondo me È una cosa importante Bisogna portare avanti Anche un ricordo storico Di quello che è stato fatto E di quello che deve essere Ancora sviluppato E allo stesso tempo Ci sono un sacco di nuove energie Quindi nuove idee Nuove collaborazioni Nuovi spunti Che vengono dall'esterno E secondo me Questa è l'unicità Della nostra lista Perché come ha detto Benedetta È una vista molto eterogenea E questo secondo me È una grossa ricchezza Tante persone che si presentano Nella nostra lista Hanno già avuto un'esperienza E per chi come me Sta arrivando In questo momento È una fonte di arricchimento Di conoscenza Sempre maggiore Il nuovo Imaie Ha fatto un ottimo lavoro finora E noi eravamo pronti lì A sostenerlo E a partecipare a questo Ottimo lavoro Dobbiamo continuare ad esserci Per far sì che questo Sia un ottimo lavoro Anche nel futuro Questa lista può davvero Fare la differenza Come funziona la votazione Quest'anno? Dovrebbe essere arrivata Una mail L'avete ricevuta vero? Dal nuovo Imaie Dove Dal 12 di maggio Dalle ore 9 Ci si potrà collegare A un link Indicato nella mail Per poter creare La password Per poi in seguito Poter votare Si vota esclusivamente Per via elettronica Da remoto Con espressione di voto Unico Personale E segreto Si utilizzerà Un sistema proporzionale Ci sono 20 seggi Chi supera il 5% Si spartirà i seggi Proporzionalmente Al numero dei voti Acquisiti E quando si vota? In 22 23 24 maggio Dalle ore 8 Alle ore 21 È arrivato il momento Di borgere i tuoi saluti Ecco i nostri migliori saluti Lista nuova Vota 1 Vota 1 Vota 1 Mi raccomando È la lista numero 1 Non a caso È numero 1 Vota 1 Vota 1 Le ore 11 Vota 1 Vota 1 Vota 1 Vota 2